La tremenda burla, monologo di Aldo Nicolai. Non è che in ospizio si stia male, ma se non si ha un po' di iniziativa la vita diventa monotona. Lamentarci però non sarebbe giusto, le suore sono pazienti, buone, il vito è sano, le camerate ampie, spaziose, pulite, perché la pulizia le suore ci tengono e fanno bene, perché quando ci si dorme in 20 o in 30 per camerata, ma questo è mica un inconveniente, in più si è, meglio si è. Ci si tiene compagnia, il solo inconveniente è come passare il tempo, le ore non passano mai, si ha un bel passeggiare, riposare su di una panchina, fare una partita a carte, quattro chiacchiere con l'amici, il tempo non passa, non passa. Appena arriva uno nuovo ci si fa tutti attorno per farsi raccontare da lui la sua vita. Chi è, cosa faceva, quanti anni ha, di che male soffre, perché è finito in ospizio. Ma dopo che ha raccontato tutto, non ha più nulla da dire nemmeno lui. Le suore, che poverine ci vogliono tanto bene e fanno quello che possono, ci hanno fatto fare in fondo al cortile un campo di bocce. Ma chi ci gioca la nostra età con queste povere ossa che scricchialano? alzati, chinati, chinati, alzati. Chi ci gioca un giorno non ci gioca più il giorno dopo. È che siamo vecchi. Il pomeriggio passa meglio, c'è la televisione e noi stiamo davanti al televisore tutto il pomeriggio a guardare gli spettacoli per bambini, favole, farse, cartoni enemati. Gli spettacoli per grandi invece a noi immettono malinconia, ci fanno pensare e ricordare. E alla nostra età fa male. Viene la nostalgia per quello che non si ha più. La gioventù, la forza, la salute. Le cose che si rimpiangono, le cose che si rimpiangono di più sono proprio queste. Vengono fuori i ricordi. Comunque tornare indietro non vorrei, non ricomincerei proprio da capo. Ecco perché preferiamo gli spettacoli che vedono i bambini. Siamo ridiventati bambini anche noi, deboli, indifesi, sdentati, con le gambe vacillanti. appena le dieci. Si vogliono ancora tre ore per mangiare. Oggi, giovedì, carne al ragù. Buono, eh. Ah, la suora cuciniera lo fa proprio bene perché lo lascia cuocere ore e ore e la carne si disfa in bocca senza nemmeno masticare. Eh, ma è al mattino che il tempo non passa mai, specie quando tutto procede normale e non ci sono novità. Se invece muore qualcuno è diverso. Ci si raduna per parlare del morto, lo si va a visitare, si aspetta il funerale, l'arrivo dei parenti, ci si organizza e si fanno programmi per la passeggiata che si farà per accompagnarlo al cimitero. Ed è per questo che ho inventato il gioco. Per reagire. Ma mica è stato facile, ho dovuto trovare altri nove burloni come me, ancora in gamba e capaci di stare allo scherzo. Guai, se lo sapessero, le suore non ce lo permetterebbero. Mica per cattiveria. Ma loro certi divertimenti divertimenti non riescono proprio a concepirli. Perciò bisogna fare tutto di nascosto. Io preparo le schede, che sono cartoncini che mi faccio regalare dal cappellano. Ne do una per una ai miei compagni, che sono nove. Una la tengo io. Ognuno ci scrive sopra un nome e me la riconsegna. Anch'io scrivo il mio nome sul cartoncino. Poi metto le schede in una busta, la sigilliamo e andiamo a nasconderla in un posto sicuro, in chiesa, sotto l'ordono. Io oggi sulla mia scheda ho messo il nome di Barchetti, quel vecchione laggiù che apre la bocca solo per lamentarsi. E domani mattina, all'ora del caffelatte, lo scherzetto. Siccome tocca a uno di noi preparare le scodelle, che poi le suore dispongono sul tavolo, in una delle scodelle si mette un cucchiaio di una certa polverina. L'ho portata io, ne ho un sacchetto. Insomma, io lavoravo in una fabbrica di medicinale, semplice no? La suora passa a servire il caffellatte, ci riempie la tazza, mangiamo tutti con buon appetito. Noi che sappiamo? Ci scambiamo una strizzata d'occhio, se siamo vicini di tavola una gomitata, ma gli altri che non sanno niente e dalla nostra burla? Che ne sanno? Poi dopo mangiato andiamo in cortile per la passeggiata. Tutto succede all'improvviso, c'è agitazione, animazione, curiosità. Poi viene fuori la madre superiore con la faccia triste, triste e ci dice il nome del compagno che ci ha improvvisamente lasciato. Se qualcuno domanda come è successo, lei risponde che deve essere stato il cuore, perché alla nostra età il cuore è sempre in pericolo. Noi del gruppo ci riuniamo e se qualcuno di noi ha indovinato, dopo aver controllato le schede, si intasca il premio. Se nessuno ha indovinato i soldi vanno ad aumentare il monte premi per la prossima volta. Noi del gruppo aspettiamo una settimana, una decina di giorni. Poi se non è successo nulla di nuovo ricominciamo il gioco. Ma guai se le suore che sono tanto buone sospettassero. Certi scherzi non li capiscono, non apprezzano queste burle innocenti che servono soltanto a svagare, a rompere la monotonia di questa vita, a far passare il tempo. Questo tempo che non passa, non passa, non passa, non passa mai.